Bene, vediamo come stabilire obiettivi di profitto con l'attività di day trading di lungo termine. Possiamo dire che questa è la fase più semplice di un'intera gestione. La fase invece più impegnativa dove dobbiamo lavorare di più per diventare capaci è la gestione del rischio. Come ho detto, ripeto, se non hai visto i video precedenti, questo è l'ultimo video di una serie di quattro che poi pubblicherò nel blog, quindi nella sezione DTA ci saranno poi tutti quanti i quattro video. Ed è utile seguire questo approfondimento alla fine dei quattro video perché così puoi chiudere il cerchio e comprendere, avere una comprensione maggiore di come funziona questo tipo di trading. Detto questo, la gestione dei profitti si pone alla fine di un'intera gestione. Ho spiegato il piano di trading, è composto da sei processi, tre previsionali, tre gestionali. Questo è l'ultimo di un'intera gestione. Se siamo capaci nel gestire il rischio, siamo capaci di accedere ai profitti, come già ho detto. E quando abbiamo intercettato, quando intercettiamo un'opportunità che genera una tendenza, a quel punto diventa relativamente facile produrre un profitto. Quindi la difficoltà sta nell'individuare l'opportunità che reagisce come a noi serve. E questo riusciamo a farlo grazie alla gestione del rischio. Quando arriviamo ad un'opportunità che genera quella reazione che a noi serve, abbiamo bisogno di queste informazioni. Abbiamo bisogno di capire come il nostro mercato lavora. Il mercato dei cambi ha la caratteristica di sviluppare delle aree di equilibrio. Quindi lavora in questo modo il mercato. Lateralmente, sviluppando, questo si direva sul time frame mensile, mensile, annuale, trimestrale, una volta identificata all'area di equilibrio, sappiamo che possiamo definire una prospettiva sulla base della posizione della nostra opportunità. Quindi se la nostra opportunità si trova per esempio qui, sappiamo che c'è un'ottima prospettiva rialzista perché il nostro cambio lavora storicamente all'interno di quest'area. Quindi raggiunge il massimo storico, poi collassa e raggiunge il minimo storico. Ok? E ripete questo nel corso degli anni periodicamente. Quindi se io ho un'opportunità in questa posizione, avrò una limitatissima prospettiva. Ne devo tener conto. Se invece la mia posizione è qui, avrò a disposizione un'ampia prospettiva. Quindi la gestione dei profitti cambia in base alla prospettiva strategica che la mia opportunità ha rispetto all'area di equilibrio del nostro cambio, del nostro mercato. Ogni mercato ha la sua area di equilibrio che dura molti anni e poi tende a riassestarsi in altri modi. Ok? Lo spiego in un altro video che trovate sempre nel canale YouTube o nel blog. Ok? A volte chiamo questa cosa area di equilibrio, a volte fascia di equilibrio. Si tratta dello stesso argomento. Quindi determiniamo innanzitutto la prospettiva. Cioè la base di quella prospettiva sappiamo che storicamente le nostre opportunità, avendo condotto un lavoro di ricerca, possono dare accesso a profitti di medio e di lungo termine. Ok? Quindi in medio termine significa obiettivi a 150-300 pip, per quello che riguarda appunto questa attività di day trading, fino praticamente a 500-700 pip. In alcuni casi è possibile arrivare a 900-1.200. Qui definiamo medio termine, qui lungo, ok? Qui lunghissimo termine. Va bene? Questo 150 pip talvolta lo definiamo breve termine, però uso poco la definizione breve termine, perché altrimenti si può confondere con una gestione e con un profitto visto nella giornata, cosa che per quello che riguarda il nostro lavoro non avviene mai, perché nel corso della giornata non matura mai una tendenza sufficientemente ampia per dare un profitto anche di questa dimensione. Vediamo di chiarire anche un concetto. Più la variazione di mercato è ampia, più il profitto è ampio. Più è ampia la variazione e più giorni servono. Alcuni mercati sono più veloci, alcuni sono più lenti. Euro-dollaro, sterlino-dollaro impiegano anche 20-30 giorni per arrivare a 500 pip, ok? Mercati con lo yen, come euro-yen, dollaro-yen, possono impiegare 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni per arrivare a 500 pip, quindi sono molto più veloci. Una velocità maggiore, naturalmente è un vantaggio, ma può diventare uno svantaggio se non sappiamo gestirla, ok? Quindi il trader novizio deve partire su mercati lenti per garantire continuità, per arrivare poi ad operare su mercati più veloci, per sfruttare quella velocità. Perché quella velocità, naturalmente, è un grande vantaggio, ma dobbiamo essere padroni, insomma, di quel mercato, di quella gestione, in modo da poter far crescere l'equity line, altrimenti tutto questo contribuirà a farla decrescere, perché gli errori fanno decrescere l'equity line, perché ci fanno accumulare spese, va bene? Rifletteteci, vi auguro buon lavoro, e poi se avete domande le potete rivolgere su YouTube o nel blog, io rispondo con piacere a tutti. Buon lavoro e a presto. Grazie a tutti.